Riproviamo a fare il legato un attimino e cerchiamo di riempire lo spazio tra le note. Come una sirena in piena voce. Proviamo? Oh, ale, oh, oh. Brava, eh? Perché in questo modo fa il cambio di registro, cioè da una massa più spessa a una massa più sottile, in modo molto, molto uniforme, con grazia, proprio con dolcezza. Eh, non è questa cosa che questi sono i bravi vocali, è il cambio di registro brutale. Invece noi l'accompagniamo, aiutiamo col glissando, eh? E riempirai gli spazi tra le note, ti abituerai piano piano a fonare sempre. Bisogna pensarci, eh? È una cosa di cui bisogna concentrarci, bisogna abituarsi per questa cosa e vedrai che funzionerà poi anche nelle aree. Comincerai ad avere la necessità di legare sempre tra le note, tra le sillabe, tra i fonemi. Ed è questa l'arte del legato. Anche, è anche questo, non solo questo, ma è anche questo, soprattutto questo, eh? Cantare, allungare bene le vocali, cantare tutte le consonanti cantabili, eh? Ma soprattutto questi mini, bevi piccolissimi glissandini, che in verità senti solo tu. Però li fai, e li fai consapevolmente, ok? Yes? Tutto bene? Ok, vedo che sorrisi, quindi tutto bene.